musica 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 ok iscritti eccoci in questa nuova puntata di minecraft finalmente dopo tanto tempo ecco che ritorno sulla let's play survival mi risistemo ok quindi la scorsa volta ci avevamo lasciati con più o meno questo inventario e sono andato a prendere altre patate perchè avevo finito il cibo e cosa è cambiato? beh assolutamente diciamo quasi niente ecco cosa ho pensato di fare vabbè qui c'è da volendo al cesto che però non apro perchè dentro c'è una delle tante cose mi sono craftato se no allora il piccone il piccone si la pala mi pare che mi sono craftato e che prima non voi non vedevate perchè non ce l'avevo quindi qui niente dov'era ah eccoli mi sono fatto altri due libri uno con power e uno con protection e un altro con power mi sono incantato l'arco che aveva con me qui dentro come incantesimo home breaking ed è abbastanza buono e poi gli ho messo il power qui non c'è niente che è perchè prima avevo la testa giù adesso ve la faccio vedere scusate se ho molta fretta ma boh non lo so ho voglia di avere fretta comunque ecco una nuova costruzione infatti ecco perchè mi vedete questo piccone mezzo al cassato posso rompere ancora 8 blocchi perfetto questo cosa sarà sarà il nuovo magazzino siccome quello lì di sotto è molto ridotto infatti non abbiamo grandi spazi per tenere la roba ho deciso di farne un altro con questa stradina che portava aia a casa però mi manca la sandstone ecco perchè non vi ho fatto vedere questa mi serve la sandstone perchè in questi giorni cioè vabbè lasciamo stare perchè in questi giorni non ho potuto o evidentemente non ho voluto fare video beh perchè sto elaborando un progetto con i miei amici SnoopLeox e un altro mio amico ti prego salta no piove allora qual è questo progetto non ve lo voglio dire perchè non ve lo voglio dire perchè è segreto molto segreto non è chissà cosa ma riguarda minecraft specialmente minecraft anzi ora che ci penso sono due progetti che sto pensando di fare ma è stupido questo cavallo uno di questi non so se ve lo posso dire anzi si dai vabbè ti devi levare l'hai capito? ti devi levare uno di questi è un live si allora posterò quando andrò a fare questo live un appunto un post su google plus con il link per seguirmi non so dove lo farò su youtube o su twitch ci sto pensando penso però su youtube con cioè si dividere in due parti questo live ma non sto qui a spoiler albero però vi dico soltanto queste due parti in cui si divide e saranno la prima una parte diciamo di un gioco poi verso metà live che penso che durerà un paio d'ore farò una parte di chat chat si chat praticamente toglierò la webcam la condivisione schermo e parlerò e basta mi farete delle domande io risponderò e poi riprenderò a giocare su minecraft magari sul sull'altra cosa che vi stavo per dire che però non vi dico perchè non voglio spoilerarvi troppo quello che andrò a fare in questi giorni quindi se non vedete video sul canale è perchè sto pensando a fare questa cosa intanto sono già arrivato a ben due stack penso che mi siano sufficienti tolgo questo bocchietto perchè mi sta antipatico perchè questo cavallo si mette ovunque? e poi dici che ti faccio male scusate ma ho appena perchè qui c'è un buco gigante? non so se mi va di dirvi la sorpresa però non ne sono del tutto sicuro perchè da una parte se ve la dico vi spoilerò un po' troppo se non ve la dico vi tengo sulle spine qui ecco cosa manca un ponte proprio stiamo qui dietro facciamo prima no qui piove qui non piove che strano comunque non so se dirvela vorrei tenervi più a lungo sulle spine però poi magari divento cattivo eeeh no scherzo quindi no perchè sto accedendo qui su col cavallo? tu cavallo devi andare sotto chi ti ha detto che devi salire? entri bravo shift pam pam ma no pam pam sono un po' raffreddato non mi chiedete perchè? andiamo subito qui non ho niente no? no ok vi devo far vedere una cosa qui nelle pecore l'altra volta l'avevo tolto qui e lì dietro c'è una nuova zona che però è ancora in costruzione come qui quindi usciamo da qui ah vi devo far vedere qui che è tutto un casino infatti ho dovuto fare altre ceste ma nelle costruzioni tutto mischiato strumenti mischiati tutto mischiato qui ecco perchè voglio andare a fare quel nuovo coso quindi pensiamo che mi servono tante ceste allora una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici non riesco a parlare oggi comunque dodici chest è difficile pensare che tutto questo legno ancora che sembra tantissimo riesca a fare soltanto i dodici chest otto e dodici strano però anche queste intanto andiamoci a fare questo lì c'è la legione di scheletri vabbè dai rischio vado a dormire poi torno dopo ok quindi stanno ancora lì mi sbrigo perchè sennò si teletrasporta se ne vai pam quello che pensavo si è teletrasportato più o meno qui eccolo muori 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 devi morire devi vieni qui guardalo vigliaco no dov'è dai no mi sono perso un enderman metterò un cartello con scritto enderman in circolazione dai ma si può perdere un enderman così sono scemo enderman ti odio lasciamo stare un'altra novità è niente no scherzo ovviamente questo non mi ci è voluto tantissimo a fare però sempre un lavoro eh quindi se volete sono disponibile da lunedì a martedì in tempo indeterminato dalle 12.05 alle 12.06 per eventuali minuti aggiuntivi aggiuntivi il costo è di 135 euro al minuto per il resto sono disponibile gratuitamente per un minuto quindi torniamo a noi non mi basta stavo dicendo no dai oh che che non riesco a soltare c'era un granimo prima fa prima fa no vabbè io sono il top dei no e mi faccio male e cado e mi faccio male e cado e mi faccio male ah uno di voi mi ha consigliato nei commenti di ridurre video da 30 minuti perché a volte li faccio di 30 minuti altri di 10 secondi ho trovato delle osse un creeper e una freccia e dice un creeper sarebbe meglio se li riducessi a di meno mi è venuta un'idea anzi oh che c'ha sto creeper l'avete visto? ho corso un casino qual'era un creeper mannaro comunque si e lì non ho ancora finito di chiudere e mi hanno consigliato allora vi stavo dicendo che uno di voi mi ha consigliato tramite come si dice chat privata messaggio privato ecco mi ha consigliato di evitare di usare i video troppo lunghi come ad esempio di 30-20 minuti e di ridurli il più possibile i minuti che sennò poi diventano abbastanza noiosi anche perchè come adesso non sto facendo niente quando potrei fare niente perchè io non faccio niente eccolo sono entrato dentro un buco adesso devo scendere e risalire comunque allora perchè non riesco a salire? ok allora eccolo ce l'ho fatta mi è venuta un'idea questo progetto cercherò di terminarlo off camera però intanto andiamo a piazzare le ceste una due una due e no aspetta vedo tutta sta roba questa ce l'ho ancora di legno che schifo ok una due e sono dodici due quattro sei e sei da questo lato una due una due e una due nooo maledizione ti odio cesto ti odio perfetto e non so cosa portare tecnicamente quindi fatemi controllare quanto sto wow già 13 minuti cosa volevo fare non lo so ah si la scorsa puntata volevo iniziare l'esplorazione e che però non mi aveva di fare vado a prendere del grano ok ragazzi ho preso del grano ma se avete capito cosa devo fare no non avete capito perché ovviamente non avete i poteri di leggermi nella mente sto morendo di fame perfetto quello zombie ha deciso di morire è il tuo giorno fortunato amico c'è un altro c'è un altro ciao amico oh vuoi inizi a leggare aia 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 cosa un altro creeper corrente muori creeper 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 devi creepare creeper ma io sei qui quindi volevo dedicare questa puntata più che altro all'esplorazione di questa caverna ma ho cambiato idea per il momento e vabbè voglio gli scheletri ma dai esci bello bravo aspetta che ti uccido no non lo so sentivo tipo le voci dei serpenti come harry potter vabbè per questa puntata è tutto scusate ma non so cosa ho fatto ho tipo fatto il verso di una mosca comunque per questa puntata perché attivo le coordinate è tutto alla prossima puntata con ricky splash h aspettate che mi faccio un selfie per la copertina fatto ciao a tutti